Qualche altra parola abbiamo da dirla, io passerei sicuramente la palla a Alessandro Pezzoni dei FIOX. Grazie, buonasera a tutte e a tutti, sarò brevissimo perché è stata una giornata densissima, quindi non ho molto da aggiungere. Permetto che non ho preparato un intervento perché mi interessava più raccogliere delle questioni oggi e fare un po' un riassunto per quello che è possibile, alcune questioni che mi hanno colpito, che vorrei ricondividere con voi, quindi non aggiungerò cose nuove ovviamente. Intanto volevo ringraziarvi a nome della federazione, ringraziare tutti i soci, le socie che tutti i giorni lavorano a contatto con le persone senza dimora, ringraziare voi che siete qui oggi, che avete resistito fino alla fine, che è collegato da casa, ringrazio gli enti del terzo settore ma anche le istituzioni che hanno un ruolo molto importante all'interno della federazione ma anche nelle attività, nelle politiche con le persone senza dimora e a favore delle persone senza dimora. Il titolo di oggi mi è piaciuto tantissimo perché è uno di quei titoli semplici però che centra appunto il tema, diritti senza dimora, il tema dei diritti è centrale, per la federazione è sempre stato un paradigma fondamentale da cui partire e su cui lavorare. Non è stato facile negli anni passare da una logica di risposta ai bisogni delle persone senza dimora a mettere al centro invece i diritti, considerare le persone senza dimora cittadine e cittadini, prima di che oltre che portatori o portatrici di bisogni e non solo primari. Sembra una banalità oggi, sembra forse una cosa un po' scontata ma è stato un percorso difficile ed è un percorso tuttora difficile perché poi l'abbiamo citato più volte oggi, i diritti non basta enunciarli sulla carta e quindi il tema dei diritti è fondamentale e oggi è stato aggiunto qualcosa in più, si è parlato di diritti che devono essere generativi, devono essere promozionali, devono essere capacitanti, delle parole bellissime che credo che siano già, ci hanno delle prospettive molto interessanti e molto importanti e che si ricolleggono molto bene a quella che la definizione della federazione dà delle persone senza dimora che viene contenuta nell'articolo 4 della carta dei valori che anche qui nella sua semplicità però dice già tantissimo, definisce la persona senza dimora un soggetto sociale, già qua la parola soggetto bellissima, quindi un soggetto non è un oggetto delle nostre politiche, dei nostri interventi, ma se è un soggetto ci si deve riconoscere anche il diritto, intorno di nuovo alla parola diritto, di aderire o non aderire alle nostre proposte, quindi anche di rifiutare quello che noi proponiamo, di non stare nei nostri tempi, nelle nostre proposte, nelle nostre modalità che proponiamo. Quindi un soggetto sociale, sociale quindi non è al di fuori la società, è un soggetto nella società, pienamente titolare di diritti, dovere e opportunità, opportunità è un'altra parola fondamentale, la cui dignità e le cui possibilità di godere di una vita migliore sono di fatto negate delle condizioni di povertà nella quale è costretta a vivere. E qua sì, casca l'asino, perché appunto dicevamo che i diritti non basta enunciarli, non basta scriverli sulla carta, non basta fare delle bellissime leggi, dei bellissimi regolamenti. Quello della residenza anagrafica per tanti anni l'abbiamo portato avanti come diritto fondamentale da rivendicare per le persone senza dimora, siamo a distanza di anni, siamo nel 2023, ancora con un numero enorme di comuni che in Italia, nonostante una legge dello Stato chiara, che non lascia spazio a dubbi, non dando la residenza anagrafica alle persone senza dimora. Con tutto quello che ne consegue, è stato detto già ampiamente prima. Ma potrei aggiungere davvero tantissimi esempi, recentemente quando abbiamo fatto proprio l'altro ieri una riunione con il Comune, con gli enti che gestiscono la residenza anagrafica, è saltato fuori che la questura di Milano, non credo che ci sia nessun poliziotto presente, quindi lo dico, ha deciso che per esempio le persone che sono iscritte alla residenza anagrafica fettizia non possono rinnovare il permesso di soggiorno, come se la residenza anagrafica fettizia fosse una roba a sé diversa dalla residenza, la questura questo è, non la questura di Milano. Capite che siamo a livelli di follia e di non rispetto dei diritti fondamentali. Ma potrei, gli esempi poi nella storia per esempio anche del diritto alla residenza anagrafica, dovremmo stare qua altre quattro ore. Parlare di diritti però vuol dire anche riconoscere dei diritti che non sono soltanto i diritti fondamentali che sono sacrosanti, la casa, il lavoro, la salute, ma vuol dire tenere in conto anche altri diritti che sono altrettanto importanti, il diritto al benessere, il diritto alla cura, il diritto alla bellezza. Quante volte ci siamo dimenticati anche nel pensare, nel costruire i servizi per le persone senza dimora a rendere dei luoghi, degli spazi ospitali, dei luoghi belli. Si puntava all'essenzialità, certo, anche per una questione economica, però magari grandi numeri, però insomma poco a poca attenzione e non è semplicemente una questione estetica di rendere i muri belli, gialli, colorati, ma proprio di avere cura della bellezza perché tutti abbiamo visione di bellezza e le persone senza dimora non sono alieni da questo punto di vista. C'è anche un tema di diritto, mi spingo un po' oltre, di un diritto alla fragilità. Che cosa intendo dire? Intendo dire che ci sono comunque delle persone, ci sono delle fragilità che a volte diventano anche un po' croniche e dobbiamo fare i conti con queste fragilità, che non vuol dire gettare la spugna e dire che non c'è più niente da fare, ma vuol dire che dobbiamo cercare di stare dentro a queste fragilità, vuol dire imparare a rispettare anche i tempi lunghi, a volte che ci sembrano infiniti, delle persone che non ce la fanno, anche di fronte alle nostre proposte, anche le più belle, anche di fronte alla casa in Housing First qualcuno non ce la fa, entra e poi torna in strada, oppure non accetta neppure di entrare in strada. Quindi c'è anche un diritto che dobbiamo riconoscere alle persone di essere fragili e dirci anche un no, anche di fronte alla proposta di una casa, che uno ti viene a dire, ma allora che cosa vuoi? Eh sì, però in quel momento non ce la fa entrare in una casa, perché magari comunque riesce più a stare in quella dimensione, non dico una parolaccia, che è la strada. Si fa un passaggio però in più questa mattina, in tutta questa giornata, che è quello di riconoscere che le persone senza dimora non sono appunto fuori dalla comunità, ma devono essere viste all'interno della comunità, sono parte integrante della comunità. E questo deve essere lo sforzo che tutti noi ci dobbiamo ogni giorno tenere presente, come aspetto fondamentale del lavoro che facciamo, perché altrimenti appunto rischiamo di pensare sempre al di fuori dei margini della società, al di fuori dei margini della nostra città, come se fossero, perché poi purtroppo questo accade, una delle politiche dell'abitare, siamo in una città in cui, non solo le persone senza dimora, ma anche chi ha uno stipendio normale non ce la fa più a stare in città, deve andare nell'Inter, neanche più nell'Inter, oramai, bisogna andare in provincia di Monza, Prianza e oltre per permettersi una casa. E tutto questo però, voglio dire, c'è una responsabilità anche politica, istituzionale di scelte a monte, non è che possiamo dire, vabbè, è così, è il mercato, è il capitalismo, è così, cosa possiamo farci? Ebbè, forse no, qualcosa bisogna fare. E quindi comunque questo tema del dare dimora, appunto, alle persone senza dimora all'interno della comunità. e mi piaceva molto la sottolineatura che faceva la professoressa Consule questa mattina del passare da un diritto all'abitazione a un diritto all'abitare, perché, certo, è importante anche un diritto all'abitazione, l'abbiamo detto poco fa, ma non basta. Vuol dire fare questo passaggio di un diritto all'abitare delle persone senza dimora, stare all'interno della comunità, di essere considerate appunto come parte integrante della comunità, pur con tutti i problemi che portano, perché è innegabile che poi quando in una città come Milano hai tantissime persone in strada che creano dei problemi, questo è innegabile, non possiamo negare, non possiamo stare qui a fare le anime belle e dire, vabbè, ma ognuno ha il diritto di stare dove vuole. Ho capito, però quando ti sta sotto casa e fa la pipì e la cacca sotto casa, è un problema, quando appunto i marciapiedi dei sottopassi della stazione centrale vengono ingombrati da decine di persone senza dimora, è un problema, o vogliamo far finta di niente. Però, voglio dire, non possiamo oscillare da logiche sicuritare che dicono dobbiamo sgomberare tutti perché non va bene e neanche dire, però, vabbè, ma ognuno ha il diritto di stare dove vuole. Dobbiamo stare dentro in queste complessità e, come dire, con questa idea di fondo che comunque anche le fragilità devono essere parte delle nostre comunità. Mi veniva in mente una frase che mi aveva detto Pasolini, come io non ho mai potuto dire perché faceva parte di un discorso che doveva pronunciare a un congresso di partito radicale, mi pare nel 75, ma due giorni prima poi è stato ammazzato, e parlava di diritti civili come diritti degli altri. Siamo sempre un po' abituati a pensare che i diritti civili sono i diritti di altri, i diritti delle donne, i diritti della comunità LGBTQI, i diritti dei senza dimora, come se fossero altro da un noi. Questo è lo passaggio che dovremmo provare a fare, è quello di dire, sì, sono anche diritti degli altri, ma sono i nostri diritti innanzitutto, perché se una persona senza dimora non può ottenere la residenza, se una donna non riesce ad ottenere un lavoro pagato quanto un uomo, l'elenco sarebbe lunghissimo, è un problema di tutti, non è un problema delle donne, non è un problema di senza dimora, è un problema della comunità LGBTQI, eccetera, eccetera, eccetera. E questo deve essere un passaggio fondamentale che dobbiamo tenere in mente, quindi i diritti civili non sono i diritti degli altri, sono i diritti, punto. Sto cercando di riprendere un po' il filo, sì, no, non aggiungerei molto altro. Volevo, così, per ritornare a questo tema dell'abitare, come paradigma fondamentale, che per le persone senza dimora vuol dire anche dare una casa, spesso dare un tetto sulla testa, quindi dare anche proprio l'abitazione, ma appunto anche l'abitare la comunità. Questo tentativo che dobbiamo fare tutti i giorni perché le persone senza dimora possono essere parte della comunità. Chiudo leggendovi, però qua prendo gli occhiali, se no, ciao, un passaggio di Umberto Galimberti tratto da un libro che intitola Il Corpo, il corpo è quello che ci permette poi di stare all'interno delle relazioni con le altre persone all'interno di una comunità, e dice, abitare non è conoscere, ma è sentirsi a casa, ospitati da uno spazio che non ci ignora, tra cose che dicono il nostro vissuto, tra volte che non c'è bisogno di riconoscere perché... ecco là là, scusate, di riconoscere perché nel loro sguardo ci sono le tracce dell'ultimo congedo, abitare è sapere dove porre l'abito, dove sedere alla mensa, dove incontrare l'altro, dove dire è udire, rispondere è corrispondere, abitare è trasfigurare le cose, è caricarle di sensi che trascendono la loro pura oggettività, è sottrarle all'anonimia per restituirle ai nostri gesti abituali, che consentono al nostro corpo di sentirsi tra le sue cose presso di sé. Grazie. 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 Grazie.